In una nota Roberto Chiuto, presidente della Regione Calabria, scrive e attualmente tali procedure risultano essere andate a buon fine per oltre il 45% complessivo dei fondi, parliamo di circa 50 milioni di euro. Per il restante 55%, pari a poco più di 60 milioni di euro, le procedure non sono affatto ferme, ma oltre a essere state avviate, sono in via di aggiudicazione per quanto concerne l'affidamento dei lavori. La Patemark è un'opera fondamentale per il nostro territorio che prevede la realizzazione di un progetto a sistema unico che consentirà, una volta ultimato, di ridurre le perdite idriche sulle reti dei comuni e ottimizzare il sistema di erogazione dell'acqua. Ma oltre a questo importante progetto, la Regione ha emesso in campo dall'insediamento del nuovo governo regionale ulteriori risorse, pari a 80 milioni di euro, per attività relative ad acquedotti e dighe e nel complesso per la ristrutturazione delle reti di distribuzione idrica. Sono investimenti in infrastrutture primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico, i cui finanziamenti risultano già in stato di attuazione per un valore di circa 39,5 milioni. La Regione, con i fatti, continuerà senza tentennamenti nella riorganizzazione complessiva del sistema idrico calabrese, che nel corso di troppi anni è stato pesantemente trascurato, arrecando gravi danni alle nostre comunità e, tra gli altri, al settore dell'agricoltura calabrese.